Ceci al cioccolato. Super croccantissimi. E bastano soltanto tre ingredienti. Cacao, miele o sciroppo e zero zuccheri e ceci ovviamente. Non ve ne pentirete, seguitemi per la ricetta. Sigla! Prendiamo 200 grammi di ceci. Li sciacquiamo sotto acqua corrente. Li scoliamo bene. E dopodiché li mettiamo in un canovaccio e li asciughiamo in questo modo, così da togliere eventuali pellicine. Dopodiché, dopo che sono stati asciugati bene bene, li mettiamo di nuovo in una ciotolina. Prendiamo il nostro sciroppo zero al caramello oppure un occhiaio di miele. Amalgamiamo bene il tutto. E poi andiamo ad aggiungere 10 grammi di cacao amaro. Io l'avevo già pesato prima. Lo aggiungiamo così. E lo andiamo a mescolare in modo da rendere tutto abbastanza uniforme. Se volete, potete aggiungere qualche goccia di dolcificante. E poi lo andiamo a versare tutto in uno stampo per torta. Io uso questo qui perché è antiaderente, quindi non ha bisogno di carta forno. Lo mettiamo, lo posizioniamo uniformemente. E mettiamo tutto in forno a 200 gradi per 20 minuti. Dopodiché saranno super croccanti. E adesso sono pronti per gustarli in compagnia dei vostri amici. Seguitemi per altre ricette. Un bacio! Un bacio!